Ho ho ho! Ma qui c'è la porta aperta! Come state ragazzi? Sono Turing Red! Tutto bene? Molly! Red Bee! C'è nessuno! Ragazzi mi sa proprio che qui dentro non c'è nessuno e quindi Red può fare tutto quello che vuole! Magari mangiare un altro po' di Nutella perché l'ultima volta mi è piaciuto veramente tantissimo la Nutella della Remy! Non è vero bella coda? Sì proprio così! Ma quello chi è? Ma quello solo io! Ma non sono così ciccio! Ma chi è che mi ha fatto così? Ehi vieni qui piccoletto! Fatti acchiappare! Vieni qui! Oh cavolazzo! Sto facendo un po' di disordine ma d'altronde io sono Red! Sono un panda gigante! Ha ha ha! Ma questo non è Turing Red ragazzi! Questo qui è un panda un po' più cicciottello però è molto carino Red Bee e Molly! Devo dire sì! Adesso è arrivato il momento di mangiare un po' di Nutella! Ma prima ho portato una sorpresa per i miei due amici! Ho portato una bella pozione! Perché ultimamente Red Bee e Molly sono pazzi per le pozioni! E quindi lasciamo la nostra bella pozione qui! Io vi do la pozione e voi mi date il Nutellone! Ha ha ha! Proprio così! Mi rubo la Nutella di Red Bee e Molly ragazzi! Ha! Adesso sì che avrò la pancia piena! Pancia mia! Fatti che panna! Ha ha! Ok! Ci vediamo ragazzi! E non dite che sono stato io a mettere la pozione e a rubare la Nutella! Ciao! Ah! Per una volta mi sono svegliata prima di Molly! E cosa vuol dire questo? Che mangerà tutta la Nutella! Sì che bello! Non vedo l'ora ragazzi! Buongiorno a tutti! Sarà una giornata fantastica! E inizieremo subito con la mia Nutella! Eh! La mia Nutella! Ma chi si è portato via la mia Nutella? Chi se l'è mangiata? Ok! Sicuramente Molly si è svegliato prima di me e mi ha portato via la Nutella! E questa? Ma questa non è Nutella! È un'altra pozione ragazzi! Voi avete visto qualcosa per caso? Perché Molly era di là che dormiva nel lettone con me! E quindi non può essere stato lui a portare via la Nutella! Chi sarà stato? Mmm! Ha un odore un po' strano questa pozione! Eh! Non lo so! Cosa dite ragazzi? La dovrei bere? O forse no? Forse sì? Non lo so! Beh era il posto della Nutella e siccome io avrei mangiato la Nutella devo bere la pozione! Eh? Raby ma cos'è tutto questo baccano? Non sarà mica una pozione quella lì eh! Non berla assolutamente! Sì Molly mi sono alzata prima di te perché volevo venire a mangiare la mia Nutella! Ma hai visto? Non c'era più la mia Nutella e c'era questa in cambio! Ok! Però non berla Raby! Dammela a me! Dammi! No 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 no! Questa volta tocca a me perché si sono portati via la mia Nutella! E quindi come minimo io devo bere questa pozione! No Raby la bevo io! No no no! Non berla Raby no! Oh porca miseria no! Nooo! Eh! Che sapore ha? Eh? Che sapore ha? Non so però sa di frutta! Fammi vedere un pochettino questa pozione! Ma perché devi bere le pozioni strane? Io non riesco a capire! Eh io avrei mangiato la Nutella ma non c'era più! Oh cavolo! Oh cavolo! Adesso ti trasformerai sicuramente in qualcosa di molto stupido! E io dovrò badarti! Dovrò occuparmi di te tutto il tempo! Ma perché? Non riesco a capire cosa potrebbe essere una carota gigante! Forse dopo la pozione del coniglio ti trasformi nella carota! Oppure cosa potrebbe essere a rancione Raby? Calmo Molly calmo! Innanzitutto non è detto che sia qualcosa di stupidino! Potrebbe essere qualcosa di molto intelligente! Ma ne dubito Raby! Una zucca gigante potrebbe essere! Zucca Raby alla riscossa! Ehi! Ogni volta non finisce mai bene con queste pozioni! Ma no Molly stai tranquillo! Non succederà niente di male questa volta! Te lo prometto! Adesso vado di là e mi riposo un po'! Sì come no! Dici che... Oh! Oh mio Dio! Ma che cos'è? Ma che cavolo è? Raby! Ma mi sono cresciute le zampe! Ti sono cresciute? Ma che cosa? No! Oh mio Dio stai diventando forse un orso! Oh mamma! Ma come faccio a camminare con queste zampone? Oh mio Dio Raby! Guarda! Oh mio Dio! Era la pozione dell'orso forse! Stai diventando un orso Raby! Ma cosa dici? Queste non sono zampe da orso! Sicuramente mi sbranerai Raby eh! Perché gli orsi sono molto cattivi! Ma no! Io sono un orsetto molto buono! Guarda Raby! Stai diventando proprio un orso! È un orso elettico! Guarda che zampe da orso! Oh mio Dio! Ehi! Fai male! E comunque si fa fatica camminare con queste zampone da orso! Oh cavolazzo! Perfetto! La Raby sta diventando un orso! Oh! Raby io ti avviso! Se provi a graffiare tutto il divano io mi arrabbio! E lo ripaghi tu! Ok? Eh! In effetti sentivo i piedi un po' pesanti! Ma non pensavo che... Oh! Ah! Io mi sono graffiata la testa da sola! Raby ti sono cresciute anche le mani da orso! Non ci posso credere! Oh mamma ma sembrano le manine di Achille! Achille ha delle zampe così! Oh mamma Raby! Prima questi! I piedi da orso! Oh che schifo! Poi le mani! Ehm! Putta un po' eh! Oh! Stai diventando un orsa! Te lo dico io! Come un orsa! Sì! Guarda! C'hai le mani e i piedi da orso! Ehm! Ok! Adesso come faccio! Ah! Però bello! Questa divana ci si fa come un po' di occhiette! Non graffiare! Non graffiare! Non graffiare il divano! Hai capito? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Lo sapevo! Era la pozione di Red! È la pozione di Turingrad! Raby! Sei diventata Turingrad! Ehi! Ciao Molly! Tutto bene? Eh sì! Mi sento la testa un po' pesante! Oh cavolo! Fa sentire il naso popi popi! Ehi! Non toccare il mio nasino! Hai capito? Come ti senti? Almeno ti sono rimasti i capelli Raby! Ah! I capelli! Sì! Mi sono rimasti i capelli! Comunque è bello il Turingrad! Ehm! Vorrei graffiare qualcosa! Ragazzi! Era la pozione di Turingrad! Non ci credo! Allora è un panda rosso! Però adesso mi graffierà tutto sicuramente! Ehi! Fermati! Dove stai andando? Sto andando a cercare della frutta! Perché si sa! I panda rossi mangiano la frutta e la verdura! Ok! Ma non la nutella di Molly! La nutella! Voglio la nutella! Voglio la nutella! Voglio la nutella! Voglio la nutella! No! Niente nutella! Hai capito? Come no? Allora io graffierò qualcosa! No! Stai ferma! Fermati! Sì! No! Basta! Basta! Red Red Reby! Turing Reby! Sono Reby Red! Reby Red! Reby Red! La la la! Reby Red! Ha ha ha! Ha ha ha! Ok! Turing Reby o Red Reby! Se fai la brava ti regalo il peluche di Red! Va bene? Ecco! Fai la brava! Ok! Piano! Piano! Tieni! Mi raccomando! Non perderlo! È molto carino! Però io non sono così cicciotta! Vero Molly? Eh! Forse un pochettino! Eh! Forse un pochettino Reby lo stai diventando! Sì! Perché andrà a mangiare tanta nutella adesso! Vieni piccolino! Tu sei il mio figlio letto! La la la! La la la! Ok ragazzi! Speriamo che la Reby torni presto alle sue sembianze naturali! E non rimanga Turing Red! Perché mi fa un po' paura! Come stai? Ma io mi diverso da un setto! Potrò graffiare tutti i cuscini! Tutto il divano! Sì! Ah! Ragazzi! Ci vediamo presto! In un nuovo video! Ciao! 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 Ciao!